Sì, ma sì, pensiamo sempre a cazzeggiare. Ma tanto tu c'hai la tua lagna blusa, stai sempre lì a suonare. Ma chi ti ammazza a te? A te chi te frega? I soldi per l'università però sono i miei, eh? Vabbè che finanzi tutti i negozi del corso. Il quadretto familiare è chiuso. Uomo di costumi rigidissimi, che viveva secondo le regole del celibato ecclesiastico e vegliava attentamente su lei perché il giorno in cui un pretendente di pari nascita si fosse presentato a chiederne la mano, la fanciulla andasse vergine al matrimonio. Sì, sì, sì. È la ora del almero. Caligula era il senatore ideale. Dopo di Tiberio, venga, non siamo nel senato. Todos sabemos che se tu e manano fuori da Anfea, e non te brigas una visione tan elastica della razón de Stato. Entrate, mio pubblico! Entrate! Visitate il mio ferroio! Forza, cavalieri! Venite! Donzelle, nome, gentili, forza! Entrate! Va bene, vi sorprenderò! Vi mostrerò niente po' po' di meno che... Voi, voi, tecnici! Su, su, con i fari celesti! Il grande e il piccolo! E le stelle! Le stelle le potete sciolacquare! Buar! Oh Grazie a tutti.